musica oh oh salve ahahah arrivederci alla prossima ah no sei ancora vivo what the fuck come fa a essere così forte vieni qua vieni qua bestio oh cristo cos'è questa e-grafting the fine in CBM non la so è figo la proviamo ahia what the fuck vieni qua vediamo cosa fanno queste oh fanno la stessa cosa soltanto che non vanno in linea dritta ma vanno come cacchio gli pare a loro ok ottimo sono le mie frecce preferite eh alci 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 oh mio dio è morta oh sei vivo insieme al Dovabit il Dovabit non fa mai un cristo di niente in questi posti sta lì a brucare i funghi perché sapete che il Dovabit ha strane tendenze vuole vuole essere sempre alticcio oh perché lui si gode la vita così oh quanto ti sbagli il Dovabit la vita la ci si gode sparando frecce in bocca ai banditi piu piu infatti espi si dovrebbe disintossicare glielo dicono tutti ma sono troppo dolci queste frecce mmm comunque mi sa che queste oh mio dio un fuoco bianco queste frecce sono ancora più api di quelle precedenti quindi sì ho fallito anche nel bilanciarmi ah che proche sono comunque aspettate ok ci sono oh un altro bandito ma salve arrivederci la prossima la metta sul mio conto grazie oh un altro vediamo se ti riesco a beccare lì sulla pedana ma sarebbe sei troppo però se ti beccassi sulla pedana wow ah ma queste sono le frecce quelle là che vanno tipo piu lentissime wow meravigliosa o lì sopra vabbè giusto per sicurezza ciupiù what non esplod ah ok come colpo critico su dovabit ma dovabit 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 ok ok ancora vivo oh mio dio era solo svenuto era in astilenza da carote ma non sei morto what the fuck no tu non ci provi vieni qua dai che ti devi shottare non ho comunque tante di queste frecce a dire la verità ne ho soltanto altre 84 con cui basta fare una nuova iroscema oh mio dio oh mio dio espi l'americano di torno cosa sono questi rumorini che oh 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 non ti puoi nascondere da me piccolo bastardo oh boom bitch oh ma guardate c'è un piatto di legno carotolo sarà il mio nuovo amico piatto di legno ti chiamerò woody ogni riferimento è puramente casuale ti chiamerò woody e sarai con me per sé oh mio dio dimmi che galleggi oh mio dio galleggi in un modo bislacco woody nessuno te l'ha mai detto aspetta 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 shlap pacchetta ci sta sempre devo sempre molestare i piatti di legno altrimenti la mia giornata non si può definire tale oh 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 ha sentito qualcuno che parla che succede amico basta ehm allora qui c'è un baule con delle cose tipo dell'oro una pozzia di resale ametista perfetta oh chi è che si definisce perfetta ma quanto quanto superba sei ametista ah allora il nostro obiettivo è da qualche parte che non so allora vediamo di lasciarci cadere in maniera molto delicata good job sp good job ed eccoci qui ho finalmente trovato dove andare è un posto un po' nascosto ma a quanto pare ci hanno comunque notato dove sei piccolo basta dove si è nascosto ok corriamo cosa sono ragni oh 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 c'è piderman c'è piderman ok ok piderman smeltila non toccarmi piderman sei disgustoso ok colpo critico su bandit planter oh mio dio posso palparvi belle crisali di mie un cadavere oh frado cosa ci fai qui facciamoci strada fra ah ah questi ragni che ci infestano diebola e vediamo se riusciamo a trovare la fine tu hai da tutto verde uh paula pugnale orchesco pozione di invisibilità estesa posso berla instant perché io sinceramente me la bevo voglio evitarmi tutti sti fottuti ragni quindi me la bevo yeee allora dove sei oh bravo lui good job lui oh cristo però adesso non riesco a capire dove salire sta pozione è fottuta cioè che cacchio me la so bevuta a fare sacca di uova che schifo ok smesso di essere invisibile good job per il tempismo con cui ho bevuto quella pozione gg oh c'è qui il postaccio slurido dungeon con le tue ragnatele che nascondi tutto quanto ehi ma sta piovendo o cosa what the fuck veramente riesco a vedere la pioggia dall'esterno oh no figata mazzerco dopo questo ne acquisisci un po' di stima dungeon dopo questo ho un po' di stima giusto un pochino giusto per non lo so farti condannare automaticamente da Dante a un giro infernale perché io sono Dante ovviamente oh dell'aglio dopo mi puzza l'alito e Tommy non mi vuole più vicino non faccio niente di particolare con Tommy soltanto che quando dormiamo insieme lui si gira dall'altra parte quando il mio alito non è esattamente il massimo ogni volta mi tocca ingonzarmi di mentino perché Tommy mi rifiuta ok se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi ricorda di iscriverti al canale mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace le pagine facebook e google plus per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta detto questo al prossimo video ciao ciao